Sono soddisfatti i pazienti per la proposta di legge presentata e se sì perché? Certamente per l'onorevole Varchi aver recepito le nostre istanze è sicuramente importante perché attualmente la patologia non è riconosciuta nell'EA come non è riconosciuta al produsore mandibolare o un'altra delle terapie importanti. Certamente sarà un percorso che ci auguriamo venga approvato durante questa legislatura in modo che questo disegno di legge possa diventare effettivamente una legge e i pazienti ne possano trarre dei grossi benefici. Un primo passo importante? Certamente, è una patologia sottostimata e sottoglionosticata. Si stima circa 4 milioni di pazienti che attualmente non fanno la terapia quindi questo ha dei costi veramente importanti se pensiamo a circa 3 miliardi ogni anno quindi sarebbe un grosso risparmio in termini economici ma anche in termini di qualità di vita per i pazienti.